E' domenica 5 gennaio, buongiorno il Tg del mattino di Telemolisi, in apertura c'è la politica perché all'inizio del nuovo anno il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro fa il bilancio dell'attività del 2013 e proietta l'attività di Palazzo Moffa per l'anno in corso. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Il 2013 è stato un anno in chiaro scuro per l'attività del Consiglio regionale del Molise, anche se va riconosciuto che la presidenza di Palazzo Moffa ha promosso e ben organizzato le celebrazioni per il 50esimo anniversario dell'autonomia regionale. Ora si attende la visita del presidente Giorgio Napolitano. La conclusione delle celebrazioni arriverà con la presenza, se Dio vuole, nei primi mesi di quest'anno del presidente della Repubblica, la presenza del ministro della difesa, il senatore Mauro, che ha accettato l'invito mio di partecipare a questa tavola rotonda, testimoniando che il Molise deve mantenere la sua autonomia. E questo era quello che era nell'interesse nostro, quella di avere lo Stato che riconoscesse a questa ventesima regione la propria autonomia. Noi credo che dovremmo andare in quella direzione. Il 2013, presidente, è stato anche un anno in chiaro scuro, diciamo così, per l'istituzione Consiglio regionale? Direi di no, non è stato un anno chiaro scuro. Considerato che la legislatura è partita il 9 aprile, con tutte le difficoltà dei nuovi entrati in Consiglio regionale, poi ci siamo trovati di fronte ad un momento molto brutto a livello mondiale, che è quello della crisi economica e finanziaria, però bisogna anche dire che ci siamo trovati di fronte a una sospensione della promulgazione dello statuto che era stato già fatto nella precedente legislatura, ma si è dovuto recepire quella che è stata il decreto Monti e con tutte le conseguenze che poi sono venute fuori. Io non mi stancherò mai di dire che proprio su questo aspetto abbiamo oggi, possiamo dire che siamo, se non la prima, la seconda regione più virtuosi d'Italia rispetto alla riduzione dei costi della politica. Certo, per l'amore del cielo, c'è sempre da fare qualcosa in più, ma credo che noi abbiamo fatto parecchio, avendo trovato, purtroppo, ahimè, su relazione degli ispettori generali della ragioneria dello Stato, una situazione abbastanza difficile che ancora non si riesce a mettere a posto. Quali sono le priorità per il nuovo anno invece per il Consiglio regionale? Innanzitutto bisogna affrontare da subito la programmazione, diciamo l'ultimo appuntamento, probabilmente con la comunità europea sulla programmazione 2014-2020, così come le grandi riforme che vanno fatte. Insomma, c'è da lavorare parecchio cercando di tracciare, dare a questa regione una connotazione più avanzata, magari proprio per la sua dimensione ridotta e forse probabilmente possiamo fare da pionieri rispetto al resto delle altre regioni. Cambiamo argomento, il Comune di Campobasso si appresta a pubblicare un avviso d'asta per la vendita di una delle tre farmacie comunali, quella di Via Calabria. Il consigliere del PD Antonio Battista si oppone alla decisione ed appogge i cittadini che con una raccolta di firme chiedono all'amministrazione di non procedere alla vendita. Il Partito Democratico al fianco dei cittadini che non vogliono la vendita di una delle tre farmacie comunali di Campobasso, quella di Via Calabria. La presa di posizione del consigliere comunale del PD a Palazzo San Giorgio, Antonio Battista. Dopo due aste andate deserte, l'amministrazione del capologo si appresta adesso a pubblicare un terzo avviso per la cessione della licenza e di tutti i beni della struttura sanitaria pubblica. Il prezzo di vendita, che nel primo incanto era superiore a 2 milioni di euro, è sceso nel secondo a poco più di un milione e mezzo, fino ad arrivare nel terzo avviso d'asta in corso di pubblicazione ad 1 milione e 200 mila euro circa. Una scelta politica dettata da esigenze di bilancio e dalla necessità di ottimizzare la gestione delle farmacie comunali alla luce dei minori introiti e del personale ridotto, secondo la maggioranza di Palazzo San Giorgio. Contrario il consigliere del PD Battista, secondo il quale non andavano revocati concorsi per farmacisti nel 2009, anche per tutelare la funzione sociale che le farmacie comunali, tutte situate in quartieri periferici della città, svolgono. E allora per il Partito Democratico occorreva ed occorre adottare provvedimenti contro la crisi delle strutture comunali sanitarie, con un deciso cambio di rotta che porti non alla vendita di una delle farmacie, ma al suo potenziamento al servizio dei cittadini. Invece, ha detto Battista, proprio la crisi delle farmacie che è stata creata, secondo il consigliere del PD, da politiche sbagliate del Comune, ha costituito il pretesto per mettere all'asta una struttura, quella di Via Calabria, strategica, perché serve una larga fascia di popolazione. E ci spostiamo adesso ad Isernia, dove domani pomeriggio alle 18 sarà nuovamente portato in scena La Bella e la Bestia, oltre l'apparenza, lo spettacolo che già prima di Natale aveva fatto registrare il sold out con oltre 2.000 spettatori. Le anticipazioni da Giuseppe Carriera. Grande attesa a Isernia per la replica straordinaria di La Bella e la Bestia, oltre l'apparenza, che sarà portata in scena domani, giorno dell'Epifania, all'Auditorium Unità d'Italia. La nuova data è stata aggiunta per far fronte alle tante richieste dopo il sold out ottenuto lo scorso dicembre, con oltre 2.000 spettatori nelle prime tre date. La produzione, come segno di ringraziamento per l'affetto dimostrato in quella occasione dalla città e dall'intera provincia, ha quindi stabilito una nuova replica straordinaria per il 6 gennaio, nel giorno della Befana. Vogliamo regalare a tutti, in particolar modo alle famiglie in questo giorno speciale, la magia di una vera favola nell'atmosfera del musical, hanno detto i componenti del cast. Inizio dello spettacolo alle 18, in scena anche domani, 16 protagonisti e 30 ballerini. Quasi 100 i costumi di scena, 400 metri quadrati le scenografie utilizzate, 114 le persone coinvolte nella produzione dello spettacolo, curata dall'associazione culturale Overture. E adesso la nostra rassegna stampa. Iniziamo come di consueto, dando uno sguardo al giornaledelmolise.it, ospedale Venafro, Scarabeo, no all'imposizione dall'alto, osara battaglia e l'apertura di oggi. Vediamo le altre notizie. Cotugno di Alzati Molise, chiesto a Fratturino incontro urgente sulla sanità, metodo sbagliato e l'intervento sullo stesso argomento. Poi il lutto nella politica regionale. Gennaro Chierchi ha stroncato da un attacco di cuore, è morto a 49 anni. Santimotio, col nuovo piano chiude l'emodinamica, resta il reparto di Otorino. Poi vediamo le altre notizie. Al centro, quelle dalla Regione. Gamma Regione presenta proposta per rilancio 25 milioni, ristrutturazione in 16 mesi, cassa integrazione 69 suberi. ITR verso un anno di cassa integrazione per 600 dipendenti. E poi furti a disene venabro sventati dai carabinieri fioccano le denunce. Rotatori al cardarelli con la Giovanni si rivolge al prefetto. E poi le altre notizie. Teatro Savoia, a tempo scaduto la storica struttura rischia di scomparire per mancanza di fonti. Proteste al casello della 14 manifestanti in corteo sulla statale. Passiamo a vedere primo piano Molise, quindi quotidiani regionali. C'è la cronaca in evidenza, ne abbiamo parlato anche nel nostro Tg di ieri sera e della notte. Colpo in gioelleria, presi tre malviventi. In due fanno irrizione nel negozio di Via Turno a Boiano e puntano un'arma contro la proprietaria davanti ad una coppia di clienti. Recuperata pure la refurtiva. Per la fretta i banditi portano via rotoli di bigiotteria e non di preziosi. Le altre notizie. C'è la politica, stallo nell'Udc. Velardi insiste, Teresio Di Pietro deve dimettersi d'accordo con la scelta di Sciarretta e Farina. Sanità nel caos, Cotugno indignato. Non erano questi gli impegni assunti con gli elettori. L'ingegnere boccia il piano dell'Asrem. Anche Totara è pronto alle barricate. Il cordoglio. Poi è morto il Gennaro Chierchia, l'uomo per bene della politica. Scomparso, lo ricordiamo, ha 49 anni. Cronaca da Termoli. Scoppio una lite fra rivali in amore. 42 anni accoltellato. Lievitalia la testa ha denunciato l'aggressore. Poi Pozzilli. Notte di terrore nell'abitazione dell'ex sindaco di Zazzo. Minacciata di morte la famiglia. Ricco il bottino. Oro e soldi. Venafro. Rifiuti tossici. Mercoledì partono gli scavi nei siti sospetti. Vertenza e TR. Poi altra mazzata per i lavoratori. Nella Gniucone serviranno solo 100. Da Venafro ancora la cronaca. Scopre i ladri in casa. Finisce in ospedale. La donna è stata ferita col calcio di una pistola. E poi la Serie D. Qui siamo allo sport. Termoli a macerata senza margine di errore. Isernia. Califano rimanda l'esordio. Impanca Argano. Agnone. Sposito. Cai per Pesato. Boiano a porte chiuse. Molise e Cappi. Il Colli brilla con il nuovo corso Saturno. Cinquina al Forulum. Tre archi. Forza quattro. Calcio a cinque. Isernia non riesce alla rimonta a Policoro contro Reraclea. E per l'Abruzzo. Dall'Abruzzo va stese esame rossetana. Per il San Salvo c'è l'Avezzano. Vediamo anche il quotidiano del Molise. Anche qui la cronaca. Tre banditi arrestati dopo la rapina. Hanno fatto riduzione nella gioelleria armati di pistola. Siamo a Boiano. Colpo di una pistola a giocattolo. Colpo in via turno. Ma i carabinieri li hanno catturati dopo una lunga fuga in Campania. Poi lutto nella politica. Scompare l'ex consigliere. Chi è stroncato da un infarto a 49 anni. Ci lascia il professore. Oggi i funerali. Totaro. Bisogna modificare il piano. Sanità. Anche Cotugno prepara le barricate. Quindi si torna a parlare della decisione dell'ASREM per quanto riguarda gli ospedali. E poi Sernia. La provincia abbatte il comune per le auto blu. Attualità autostrada. Di bello conquista il vertice del CDA. E il mese dei sal di gennaio. Tutti in fila per la corsa all'affare. Ma la partenza è col freno tirato. Poi vecchie ruggini fra nemici per la pelle. E durante la lite spunta il coltello. Siamo alla notizia di cronaca da Termoli. Invece da Isernia all'ITR la cassa integrazione guadagni straordinaria. Ora fa più paura. E poi come al solito la inquadriamo. C'è la finestra sullo sport. Serie D. Termoli trasferta insidiosa. Si gioca a Macerata. Agnone in cerca di punti contro la Vispesaro. Boiano a porte chiusi. Isernia c'è l'esordio di Califano. E poi calcio a 5. A Isernia inizio d'anno amaro. Pentri KO a Policoro. Vediamo anche il sannio quotidiano. Il titolo dedicato al Molise è questo. ITR Petraroia sollecita la prefettura. L'avvertenza richiesto per crisi aziendale. L'intervento della cassa integrazione straordinaria a favore di 587 lavoratori. L'assessore regionale lancia la sua proposta. Necessario individuare un percorso istituzionale coordinato. Ha detto Petraroia. Vediamo anche in cartaceo la pagina regionale del tempo. Da Campobasso 6 milioni per gli stipendi d'oro dei dirigenti. Qui parliamo della regione. Tra minimo tabellare e premi di produzione di risultati. In regione arrivano a 135 mila euro l'anno. In tutto sono 61 ma nei prossimi mesi scenderanno a 400 grazie ai pensionamenti. E' questa l'inchiesta con la tabella riassuntiva. Da Esernia un anno di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dell'ITR. E poi vediamo anche le altre notizie. Campobasso taglia la sanità. La maggioranza si spacca. Il capogruppo del PD Totaro. Siamo in consiglio regionale. Ovviamente contrario a qualsiasi ipotesi di smantellamento. Ha detto. E poi anche sul tempo. Muore a 49 anni di infarto. L'ex consigliere Chierchia. Passiamo ai quotidiani nazionali. Torniamo in PDF. Partiamo dal Corriere della Sera. C'è in evidenza su tutti i quotidiani la lite tra virgolette fra Matteo Renzi e Fassina. Dopo una battuta del segretario nazionale del Partito Democratico che ha riflessi anche sul governo. E questo il riflesso. Fassina si dimette. La causa è Renzi. La scelta dopo una frase del segretario che ha finto di non sapere chi fosse. Governo scosso letta preoccupato per il viceministro. Il leader PD ha un'idea padronale del partito. Ha detto Fassina. E poi caos delle scadenze per le tasse sulla casa. Ancora non sono chiari le aliquote e i tempi. E questo è un altro titolo sul Corriere della Sera di oggi. Andiamo a vedere allora i quotidiani regionali partendo da quello pugliese che è la Gazzetta del Mezzogiorno. Anche qui il ciclone Renzi sul governo. Il leader PD Fassina chi? Questa è la battuta. E il viceministro dell'economia si dimette. Con Alfano, scontro sulla famiglia, Maletta, troveremo l'intesa su tutto. Questo è il titolo principale sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo anche il mattino di Napoli che invece sceglie. L'apertura è sempre quella scontro con Renzi. Fassina si dimette ma il titolo in evidenza maggiore è questo. Coppie gay. La svolta del Papa. Francesco dice Ci pongono nuove e difficili sfide nell'educazione dei figli. L'apertura della Santa Sede. No a vaccini contro la fete. Interrogarsi su come annunciare Cristo. Quindi questo è il titolo del mattino di Napoli. Andiamo adesso a vedere l'avvenire, il quotidiano dei Vescovi. che invece parte da questo titolo. Alfano, ripartiamo da famiglia e lavoro. Giornata di fribillazioni politiche. Il vice ministro dell'economia lascia dopo la sfiducia del segretario PD. Maletta ora teme l'Election Day. Il vice premier ad avvenire. Il vice premier ad Alfano, ovviamente. Mai le nozze gay. Quindi questa è l'apertura dell'avvenire di oggi. Intanto c'è quest'altra notizia interessante. Terra dei fuochi. Appello dei Vescovi. Si faccia presto Napoli. Dopo la lettera di Napolitano. Che ha definito la situazione. Un vero e proprio dramma umanitario. Libero. Obbligo di moschea in tutte le città. Sentenza shock. Questa è l'apertura scelta. Il Tar della Lombardia accoglie ricorso degli islamici. C'è boccia al piano regolatore di Brescia. Altra bastonata giudiziaria alla politica. E ora prepariamoci all'invasione. Scrive Libero. Vediamo anche il giornale. Secondo il quale. Letta è alla frutta. Il governo perde pezzi. Si rimette il viceministro Fassina. In polemica con Renzi. Rimbasto in vista. Elezioni pure. Alfano isolato ed umiliato. Prove di rientro a casa per il vicepremier. Secondo il giornale. Vediamo anche il quotidiano economico. Sole 24 ore. Gli argomenti sulla prima di oggi. Questo. Quello di apertura. Fisco record sull'impresa. Il total tax rate al 65,8%. Tasi intanto. Verso l'emendamento sul 3,5 per mille per la prima casa. Dossier di SC. La pressione fiscale frena la competitività dalle entrate. Corsa ai controlli. Last minute. E poi parte Basilea 3. a rischio 20 miliardi di nuovi crediti. Al via la stretta sul capitale delle banche. E gli stress test europei. Era questa quindi la prima pagina del Sole 24 ore. Dobbiamo ancora vedere quella del tempo. Secondo il quale il Made in Italy è proprietà straniera. Ed è questa l'apertura. Paese svenduto. Ecco i 520 marchi ceduti in 5 anni a gruppi internazionali. Lo storico comparto alimentare totalmente in mano a francesi. Svizzeri e spagnoli. Intanto il business. Miliardiaro dei nomadi sulla metro. La strage dei portafogli. 20 anni di zingarate. C'è anche questo approfondimento. Dobbiamo ancora vedere. Allora il manifesto Bergoglio e pregiudizio è il titolo in evidenza. La posizione del Vaticano su gay e lesbi che non cambia ma le coppie di fatto non sono più un tabù. E mentre il Papa parla di nuova sfida il governo nel governo e scontro sulle unioni civili con Forza Italia schierata a favore Alfano resta solo. E poi anche qui Fassina chi? E Renzi scivola verso il rimpasto secondo il manifesto. Allora vediamo proprio l'unità come tratta questa notizia e questo scontro. Tra virgolette Renzi Fassina. Renzi accelera. Fassina lascia. Il segretario sulla legge elettorale risposta in una settimana attacca Alfano sulle unioni civili. Ha azzerato la famiglia dice Renzi ma una frase sul vice ministro crea un caso politico di missioni irrevocabili ha fatto sapere Fassina. Quindi questi erano i giornali in PDF. Andiamo a vedere adesso in cartaceo la Repubblica. Anche qui il governo PD scoppia il caso Fassina. Renzi in orinza. Il vice ministro si rimette ultimatum sulla legge elettorale. Alla segreteria dei democratici leader annuncia sulla riforma del voto accordo entro una settimana. Poi attacca Alfano sulle unioni civili. Centropagina il Papa apre alle coppie gay da loro. Nuove sfide educative ha detto Papa Francesco. Anche per la stampa Fassina. Primo strappo per Renzi e la notizia d'apertura. E poi i saldi. Niente assalti. La caccia agli sconti e tutto l'anno. Primo giorno senza botto. Coder resta solo nelle boutique del centro a Torino e Milano. Il messaggero. Titolo identico. Sostanzialmente a quello di molti quotidiani. Governo. Primo strappo di Renzi. Con riferimento alla polemica. Con Fassina. La frase su Fassina. Nuove tasse intanto sugli immobili. A gennaio si rischia il caos. Giallo sui versamenti. Tasi verso un rincaro. Ancora prima di nascere. Chiudiamo con la gazzetta sportiva. C'è ovviamente attenzione alla sfida. Scudetto di stasera per la Serie A. Stasera Juve Roma. Per chi suona lo scudetto. Prima contro seconda. Gara decisiva. Pirlo contro Totti. Duello stellare. Se i bianconeri vincono volano a più atto. Se la spuntano i giallorossi. Distacco a meno due giochi riaperti. Due grandi ex come Di Livio e Candelà. Giocano la sfida per noi. Il Napoli. Spettatore interessato. Pronto a rifarsi sotto. Intanto il Milan va in onda. Con riferimento al nome del nuovo acquisto dei rossoneri. Zack. L'ex allenatore. Zaccheroni. Dice a carattere. Delirio giapponese. Intanto la malpensa. Onda è appunto giapponese. Sono qui per fare golle d'assist. Le prime parole. Il suo CT firma la garanzia. Zaccheroni. Ricordiamo anche commissario tecnico del Giappone. Palacio. Intanto trova Rea Petkovic licenziato. verso l'Asio Inter. Lotito risolve il caso Panchina. L'argentino col Genoa aveva già messo in difficoltà il nuovo tecnico di Tacco. E poi calcio scommesso. E Bazzani conferma. Milanello per un credito. Montella spera. Sogno. Un altro colpo alla Rossi. Fiorentina. Livorno. E poi il quadro delle altre partite di serie A di oggi. Il dramma. Intanto testimone. Video di un turista ripreso. Schumi. Andava a 20 all'ora. Ancora sull'incidente di Schumacher sulla pista da sci. Ciclo. Il neo CT azzurro. Cassani dice. L'Italia. Voglio riportarla in cima al mondo. Bene. Ecco la gazzetta dello sport. Come di consueto chiudiamo anche la rassegna stampa e il nostro Tg del mattino. L'informazione di Telemolisi torna alle ore 14 in diretta con il telegiornale. A voi tutti grazie per l'attenzione. Buona domenica.